buonasera a tutte e tutti ben ritrovati in questa nuova edizione puntata come potremmo dire della storia a porte chiuse organizzata dal museo di risorgimento di bologna dalla biblioteca del museo di risorgimento di bologna e dal sito storia memoria di bologna l'argomento che volevo trattare con voi questa sera è una storia particolare una biografia ma non una biografia di una singola persona uomo donna dell'ottocento pensi alla biografia di una famiglia una famiglia che ha rappresentato molto per la città di bologna che ancora è rappresentata in un certo modo o ricordata comunque all'interno e attraverso tutta una serie di monumenti se così li possiamo chiamare o luoghi della memoria bolognesi e che però magari è conosciuta appunto più per alcuni aspetti e non proprio per la sua storia familiare quindi mi sembrava interessante ripercorrere la storia la biografia di questa famiglia in particolare appunto quella della famiglia pizzardi di bologna una storia che i bolognesi probabilmente appunto conoscono più attraverso la fine della storia della famiglia una fine che rappresentata da un lascito importante della dell'ultimo erede della famiglia pizzardi carlo alberto il quale alla morte nella sua morte il 10 dicembre del 1922 lasciava tutti i beni della famiglia a il comune di bologna per quanto riguardava i beni che riguardavano il palazzo pizzardi che allora era in via castiglione e soprattutto il la maggior parte dei beni della famiglia all'amministrazione degli ospedali di bologna questo perché la famiglia pizzardi aveva sempre avuto un rapporto particolare con la filantropia la beneficenza e la l'istituzione della di quello che aveva rappresentato appunto l'organizzazione degli ospedali moderni nella città di bologna carlo alberto muore appunto il 10 dicembre del 1922 senza eredi è l'ultimo erede membro della famiglia che rimane in vita e quindi lascia tutti i beni della famiglia che ammontavano a un discreto patrimonio per l'epoca beni che erano sia in patrimonio appunto di denaro ma anche in terre in terreni e quindi in terreni agricoli e quindi in rendite agricole all'amministrazione degli ospedali di bologna per questo dicevo all'inizio è la storia di una famiglia che i bolognesi e le bolognesi forse conoscono più per i busti i vari busti di carlo alberto pizzardi che si ritrovano nei principali ospedali bolognesi dall'ospedale maggiore all'ospedale bellaria però è interessante ripercorrere la storia di questa la biografia di questa famiglia perché è una biografia che si intreccia è una storia che si intreccia a pieno titolo in quello che è il lungo 800 bolognese la famiglia pizzardi è quando muore carlo alberto è una famiglia di marchesi quindi di nobili ma in realtà le origini della famiglia stessa si ritrovano nella pianura bolognese i pizzardi capostipide della famiglia bartolmeo pizzardi lavorava come fattore presso la casa fioravanti quindi erano agricoltori fattori affittuari questo tra la fine del settecento e l'inizio dell'ottocento erano fattori erano affittuari ma soprattutto la diciamo così la prima fortuna della famiglia si costituisce negli quelli che vengono chiamati dalla storiografia contemporanea agli anni francesi quindi gli anni dell'occupazione delle guerre francesi e soprattutto delle guerre napoleoniche la famiglia si arricchisce perché erano fornitori dell'esercito francese quindi diventano fanno un po di fortuna e quella fortuna la usano per acquistare quelle terre che coltivavano quindi da fattori diventano piccoli proprietari e poi proprietari sempre più importanti perché arriveranno a comprare con tutta una serie di acquisti di vendite di acquisti successive a costituire diciamo così due grandi appezzamenti di terreno nelle campagne tra bologna e ferrara in un primo momento le terre fra santa maria induno quello che è quello che oggi è chiamato ventivoglio e l'altro appezzamento è quello che oggi noi conosciamo come castel maggiore e che si aveva castagnolo minore castagnolo maggiore quindi la zona è quella questi questi beni questa compravendita di beni fanno sì che da quegli affettuari da quel bartolomeo pizzardi affettuario fittavolo presso la casa fioravanti si giunge a una famiglia che ha possiede dei grandi apprezzamenti di terreno ricchi di colture riso e canapa per le principali culture delle terre dei pizzardi a partire dagli anni così 30 40 dell'ottocento la fortuna dei pizzardi è tale per cui accatasto nella diciamo così quando si vanno a fare la rendicontazione dei beni delle principali famiglie aristocratiche bolognesi nel 1849 i pizzardi sono più o meno equiparabili la fortuna della famiglia pizzardi è più o meno equiparabili a quella di ercolani malvezzi quindi delle principali famiglie senatori aristocratiche della vecchia della vecchia aristocrazia bolognese quindi una fortuna che si basa sulla terra e che consente a questa famiglia la prima generazione di questa famiglia di costituire un patrimonio in quel terreno in quelle zone tra appunto bentivoglio e castelmaggiore l'altro aspetto interessante di questa famiglia è che è una storia che da da fittavoli a quello che potremmo dire quasi borghesi in realtà si trasforma in una storia di una famiglia aristocratica perché e questo era tipico delle di alcuni un aspetto di questa elite diciamo così ottocentesca del primo ottocento di questa prima borghesia che si viene formando era quella di tentare di copiare non certo sempre imitare sarebbe meglio utilizzare come parola imitare gli usi e i costumi della aristocrazia e quindi il primo passaggio che fanno i pizzardi una volta ottenuto diciamo così il patrimonio fondiario la terra quello che era costituiva comunque la ricchezza principale per tutta l'aristocrazia ottocentesca almeno nella prima metà dell'ottocento ecco il primo passaggio che fanno è quello di acquistare un titolo nobiliare che un titolo un blasone che avrebbe consentito alla famiglia di arrivare a poter essere equiparata all'aristocrazia alla vecchia aristocrazia l'aristocrazia di sangue e quella di acquisto quindi nel 1844 nell'albo d'oro riaperto dopo gli anni della rivoluzione francese si si legge la presenza dei marchesi pizzardi fra i nobili bolognesi primo passaggio l'acquisto del titolo secondo passaggio qual era l'elemento che nella bologna ottocentesca rappresentava oppure in ogni caso dimostrava la partenenza a una classe a quell'elite aristocratica cittadina tipica della prima metà dell'ottocento un palazzo in città e quindi dalle campagne tra bentivoglia castel maggiore i pizzardi acquistano il palazzo ex legnani in l'attuale via farini quello che oggi è la sede della del tribunale di bologna quindi quello è il secondo passaggio acquisto del bene acquisto del titolo nobiliare acquisto del palazzo in città e ultimo passaggio interessante in questa acquisizione di un ruolo di classe di un'elite di accesso all'elite aristocratica il matrimonio del figlio di Gaetano pizzardi luigi con una esponente della vecchia aristocrazia bolognese quindi luigi pizzardi sposa maria marescotti berselli appartenente appunto al ramo diciamo così della vecchia aristocrazia bolognese ecco che dalla prima generazione dei pizzardi la storia della famiglia si evolve per arrivare appunto a rappresentare una generazione che è perfettamente in linea e assolutamente rappresentativa della aristocrazia liberale bolognese della prima metà dell'ottocento l'aspetto interessante della biografia di questa famiglia è anche che la storia della famiglia pizzardi in questa in quelli che sono gli anni del risorgimento a partire dal 1848 fino al 1861 finisce per intrecciarsi con la storia della costruzione della nazione italiana i figli i fratelli di luigi partecipano alla prima guerra d'indipendenza nel 1848 vanno a combattere al fianco di carlo alberto mentre invece luigi si muove tra bologna e roma per cercare di fungere da diplomatico in un certo senso e riallacciare i contatti tra la capitale diciamo così la città principale dello stato pontificio e e bologna che era la seconda città dello stato pontificio la rappresentazione artistico diciamo così e anche plastica o comunque nei luoghi bolognesi di questa dell'appartenenza della scelta della famiglia pizzardi per il risorgimento è dimostrata dai lavori che il colui che viene scelto per traghettare la città di bologna dallo stato pontificio al regno d'italia quindi tra il 59 il 60 e 61 come sindaco all'epoca si diceva senatore ma in realtà era il sindaco ecco colui che viene scelto per fare questo passaggio è proprio luigi pizzardi e luigi pizzardi celebra questo questa sua riuscita diciamo politica questa questa celebrazione della del risorgimento compiuto nella salone principale della del suo palazzo palazzo pizzà quello che diventa palazzo legnani pizzardi in via farini ristrutturando il salone e trasformandolo in un salone che è una celebrazione della della nazione italiana con quadri che rappresentano le glorie artistiche culturali della nazione italiana e i principali protagonisti del risorgimento italiano da napoleone terzo a cavur a carlo alberto di savoia quindi c'è questo aspetto di misto di unione tra la scelta politica e liberale l'appartenenza alla causa del risorgimento e la costruzione diciamo di un patrimonio economico che è costitutivo di questa elite borghese e liberale che è l'elite che costruisce che fa la nazione italiana negli anni del risorgimento interessante è però anche vedere come finisce la storia di questa famiglia dicevo all'inizio è una biografia familiare che attraversa il tutto il lungo ottocento il capostipite della famiglia le tracce della famiglia dei primi del capostipite vanno ricercate in quegli anni francesi quindi tra la fine del settecento l'inizio dell'ottocento e la morte dell'ultimo erede carlo alberto è del 1922 quindi questo lungo ottocento che vede sostanzialmente queste tre generazioni quella che costruisce il patrimonio acquistando le terre e anche avviando l'altro aspetto interessante che dal punto di vista economico questa generazione di pizzardi i padre diciamo così di luigi è una generazione che avvia anche le prime forme di proto industrializzazione a bologna nella campagna quella legata all'industrializzazione legata alla campagna bolognese saranno loro a avviare le officine meccaniche di castelmaggiore di quelli in quel paese che avevano contribuito a costruire a creare che saranno poi vendute nel 1869 a gaetano barbieri e quindi sono conosciute come le officine barbieri quindi dal punto di vista economico un'elite che costruisce si costruisce attraverso la terra il legame con la terra ma anche una modernizzazione di quei dei metodi di non solo di dell'agricoltura ma anche dell'interesse di comprendere come la modernizzazione economica sarebbe stata anche un passaggio importante per la modernizzazione politica alla generazione del risorgimento quella che coincide in un certo senso della costruzione anche dello stato nazionale che coincide con la figura di luigi pizzardi appunto primo sindaco di bologna nel regno unitario succede l'ultima generazione della famiglia pizzardi quelli che sono i figli di luigi ed è interessante vedere come questa biografia familiare in effetti rappresenti in un certo senso una sorta di parabola no ascendente poi discendente alla fine del secolo luigi e maria mareschiotti berselli hanno quattro figli tre maschi e una femmina i tre maschi sono francesco camillo carlo alberto la femmina è cesarina cesarina come tutte le donne non avendo possibilità di di contribuire comunque alla costituzione del patrimonio la parte del patrimonio le verrà data in dote si sposa con un nobile napoletano Gaetano della Feld va a vivere a Napoli per un certo periodo e poi termina la sua vita nel manicomio di Reggio Emilia quindi una figura tra l'altro difficile da rintracciare anche attraverso le fonti storiche ma che ha un destino che potremmo senza voler essere senza voler esagerare un destino in parte triste ecco possiamo definirlo possiamo definirlo così ma l'aspetto interessante invece per chiudere la parabola della famiglia pizzardi è andare a vedere rapidamente i percorsi biografici degli ultimi tre eredi carlo alberto è l'erede diciamo così designato della famiglia è quello che tiene in piedi porta avanti moltiplica il patrimonio familiare e sarà capace di lasciare questo ricco ingente patrimonio alla sua morte nel 1922 agli ospedali di bologna dopo aver peraltro contribuito alla costruzione dell'ospedale bellaria che verrà finito nel 1936 ma che era stato iniziato con un lascito proprio di carlo alberto e su desiderio di carlo alberto pizzardi gli altri due fratelli pizzardi francesco e camillo sono rappresentano in un certo senso quello che è l'ultimo la 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 fin del siècle potremmo quasi dire no la fine dell'ottocento con due aspetti caratteristici di questi di questi nobili di fine secolo camillo è il nobile ottocentesco dedito alla all'arte alla cultura alla musica camillo sarà presidente comunque delle principali società di mutuo soccorso questi sodalizi che vengono creati fin dalla metà dell'ottocento per aiutare in una sorta di filantropismo moderno e ottocentesco la la condizione dei lavoratori ma soprattutto camillo è l'artista diciamolo così rappresenta l'aspetto il tipico nobile ottocentesco che si occupa di cultura fonda la società del quartetto quindi a questo aspetto da 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 attenzione particolare alla cultura e non attenzione al patrimonio della famiglia tant'è che a un certo punto viene in un certo senso abbandonato dalla famiglia fugge dalla sorella a napoli poi parte per parigi quindi anche questo aspetto di una sorta di auto esilio forzato da parte di un membro della famiglia scrive lettere strazianti al fratello dicendo io non mi riconosco più nella famiglia però diciamo che rappresenterebbe questa sorta di nobile ottocentesco appunto fin de siècle dedito alle arti e alla cultura francesco è invece il rappresentante si potrebbe quasi dire della la pecora nera della famiglia francesca il primo genito peraltro di luigi e di maria ma è un il tipico rappresentante invece di del nobile del figlio della famiglia nobile che non ha nessuna intenzione di dedicarsi alla cura del patrimonio della famiglia anzi si dedica a sperperare il patrimonio della famiglia giovane gioca a carte sfida duello nobile mazzacurati e parte a un certo punto alla fine tra gli anni 80 dell'ottocento parte a fare un viaggio in india quindi un viaggio di caccia in cui va a cacciare i vari animali selvatici selvaggi diciamo così lascia peraltro un diario di questo di questo viaggio di viaggio in india da bologna all'india questo viaggio che lui compie dal 1800 tra 1877 e 1878 diario che è conservato appunto nell'archivio di famiglia e che a tratti fa anche sorridere insomma sulle analisi l'analisi della di questa civiltà che lui scopre a un certo punto a bordo della della nave in cui si trova il 18 ottobre del 1877 quando comincia a scorgere all'orizzonte la costa d'africa sbarca ad alessandria e la prima impressione che questo giovine nobiluomo bolognese da è entri in questi particolari per darti un'idea dell'immondizia che regna in questa città la quale del resto non ha alcun carattere speciale è una città internazionale vi si parlano tutte le lingue vi si vestono tutti i costumi vi si vede gente di tutti i colori il nero però predomina ma non credo sia sempre un distintivo di razza orientale e sono sicuro se che ad alcuni di questi neri si infliggesse un bagno con una violenta saponata si scoprirebbe che essi sono semplicemente europei di razza sporca quindi un personaggio a tratti a tratti simpatico a tratti insopportabile si potrebbe quasi dire la disgrazia la piccola nera della famiglia perde non so quanti soldi al gioco viene disedetato dal padre due o tre volte la nonna la mamma perché la madre maria maria scotti berselli muore di parto dando alla vita l'ultima figlia cesarina quindi in realtà crescere questi tre ragazzi soprattutto la nipote è la mamma di maria elena gozzadini marescotti e elena gozzadini ha un debole per questo nipote scappestrato quindi è lei che interviene tutte le volte presso il padre per convincerlo a ridare soldi a francesco ma la cosa interessante se volete il racconto finale diciamo così l'esempio finale che vi può dare l'idea di questo del carattere di questo personaggio è che francesco muore nel 1919 a monte carlo giocando al casino probabilmente e nel suo testamento lascia scritto se ci sono dei debiti pagateli lascio però alla famiglia in eredità tutti i vari animali impagliati che ho ottenuto e ho conquistato e ho ucciso nel corso dei miei viaggi vi lascio immaginare la gioia di carlo alberto di doversi gestire anche tutti gli animali impagliati quindi una sorta di fine diciamo così non gloriosa da parte degli ultimi rappresentanti di questa famiglia e l'aspetto interessante è anche appunto questa scelta questa decadenza fondamentalmente di questa famiglia che certo come a livello di patrimonio non è assolutamente decadente perché il patrimonio che lascia alla fine alla morte carlo alberto è un patrimonio ingente però non ha più questa rappresentazione importante non c'è più questa rappresentatività della famiglia nella bologna ottocentesca e soprattutto manca all'ultima generazione dei pizzardi quella capacità di cogliere la modernità che stava arrivando l'aveva accolta gaetano quando appunto aveva l'avano colto i primi quando erano stati fornitori dell'esercito avevano acquistato le terre l'aveva accolta gaetano il padre di luigi quando aveva capito l'importanza di investire nella prima le prime industria nella proto industria meccanica che aveva capito anche luigi quando aveva investito in ad esempio in tutta lì la costituzione delle delle prime banche di sconto a bologna la casa tra la casa di risparmio la prima banca di sconto c'era quindi c'era questo aspetto di modernità che manca all'ultima generazione dei pizzardi quindi carlo alberto muore sì lasciando il patrimonio agli e all'amministrazione degli ospedali ma come una sorta di continuo di quella azione filantropica e paternalistica che aveva rappresentato e che era tipica diciamo così di una ancora di una aristocrazia ottocentesca e non di una classe non della classe borghese che avrebbe dovuto così entrare in quel nuovo secolo nel secolo breve nel novecento post prima guerra mondiale del resto la scelta testamentaria di carlo alberto non tanto quella di lasciare i soldi all'amministrazione degli ospedali perché questo appunto si può leggere in questa scelta filantropica ma la scelta che lui fa l'ultima fra una delle frasi più che più lasciano interdetti quanto si legge il testamento di carlo alberto pizzardi è la scelta che lui fa di non essere rappresentato come un membro di una famiglia importante della bologna dell'ottocento che aveva rappresentato comunque una aveva svolto un ruolo importante nella bologna dell'ottocento no lui sceglie di essere sepolto al cimitero di bologna in una tomba comune morto che io sia sarà data sepoltura cristiana al mio cadavere nel cimitero del comune o della parrocchia ova accadrà la mia morte in campo aperto come ai poveri si dà non funerali non fiori non accompagnamenti e dispensato voglio tutti quanti anche i parenti i benevoli gli stipendiati i legatari e coloro che credono di aver ricevuto qualche beneficio pensassero di dover accompagnare la mia salma in chiesa o in sepoltura nessun distintivo e nemmeno il nome si ponga sulla mia tomba volendo lo confermo essere trattato come il più povero fra i poveri una scelta di non riconoscere la memoria della biografia di questa famiglia che è rappresentativa interessante di questa sorta di parabola della famiglia pizzardi in realtà poi la salma di carlo alberto viene traslata all'ospedale bologna scusatemi all'ospedale bellaria dove si trova tutt'oggi penso però che questa biografia familiare così come mi piace definirla una sorta di potremmo quasi per fare una citazione letteraria una sorta di buddenbrock alla bolognese il romanzo di thomas man può essere un racconto così con il quale spero di avervi intrattenuto piacevolmente vi ringrazio e buona serata